sfogo 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 Lecce Juventus 1 a 1 50esimo di bala su rigore 56esimo Mancosula la recupera tu come fai a voler ruotare con lo scudetto se va a perdere punti contro il Lecce come fai? il Lecce ancora non aveva fatto un punto a via del mare dei 7 punti che ha fatto il Lecce li ha fatti tutti, dico tutti fuori dal via del noire tu eri talmente sicuro di vincere che mi lasci Ronaldo a Torino che ci vuoi fare? che ci vuoi fare? squadra spenta squadra senza idee con pochissimo, pochissimo gioco e ci sono naturalmente anche i meriti della squadra di Di Venani che oggi era in tribuna per la squalifica combinata nella partita contro il Milan ragazzi c'erano Petriccione Tabanelli chi era quell'altro? lì il terzino Calderoni che sembravano essere Giordi Alba Modric sembravano essere dei top player veramente cioè questi sono diventati dei contro la Juve la Padula ha fatto un secondo tempo di sacrificio clamoroso poi Mancosu ti rilicordi a Dio però ragazzi tu perdi due punti così perché ora l'Inter alle 18 mi gioco quello che volete che va a vincere in caso contro il Parma e ci supera mi gioco quello che volete quello che volete anzi segnerà pure Lautaro che ce l'ho contro il Fantacalcio gli hanno annullato un gol a Higuain corretto corretto perché c'era fuori gioco il gol il rigore di Dybala a mio avviso più non c'era che c'era però vabbè poi alla fin fine delict 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 sei costato 80 miliuna ma dove cazzoli voglio 80 miliuna allora qui giochi nella Juve non giochi nella Lube Banca Macerata qui giochiamo a calcio non giochiamo a pallavolo qui è Oli e Benji non è Milesciro quando lo capirà questo Cristiano che non deve usare le mani che deve tenerle a posto lui dovrà giocare con le mani legate così per forza trinitino si può vabbè ragazzi smetto perché basta no 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 ok